... Domanda inviata sul nostro sito da Andris, Lettonia. Sto pensando di portare in vacanza i miei bambini a Cuba. Da quanto ne so, la Lettonia non dispone di nessuna ambasciata nel paese. Vorrei sapere chi potrebbe aiutarci in caso di necessità. In quanto cittadina Lettonia è diritta automaticamente alla cittadinanza europea, quindi valgono le norme del diritto europeo, secondo le quali ogni cittadino europeo inviagge in un paese extraeuropeo, dove non esiste rappresentanza consolare del paese di origine, ha diritto alla protezione diplomatica o consolare di un altro paese europeo. Dato che il suo paese non gode della rappresentanza diplomatica a Cuba, lei ha diritto a contattare qualunque altra missione diplomatica appartenente a un altro paese europeo, dove otterrà lo stesso trattamento previsto per i cittadini di quel paese. Quando ci si rivolge alle ambasciate, si ha bisogno di mostrare un documento d'identità come prova della vostra nazionalità. Nel caso in cui questi documenti fossero andati persi o fossero stati rubati, si accettano anche altri tipi di prove. La protezione offerta dall'ambasciato, dai consolati e degli altri stati membri comprende assistenza alle vittime di reati e crimini, assistenza in caso di morte, incidenti gravi e feriti, arresto e detenzione, ma anche emergenza relative a problemi con i documenti di viaggio, così come il rimpatrio di cittadini europei. Infine vogliamo consigliarvi di consultare il sito dell'Unione Europea dedicato alla protezione consulare per i cittadini comunitari, dove troverete tutte le informazioni utili, inclusi i contatti delle ambasciate e dei consolati dei paesi europei nel mondo. Se volete fare la vostra domanda andate sul nostro sito.